Simone Buti, una partita forse che non vi aspettavate, una supremazia quella di Macerata che oggi vi ha messo sotto pressione subito dal servizio, l'arma in più che dovevate sfruttare voi? Sì, oggi non lo so, certo non siamo entrati in campo come in gara 1, siamo entrati in campo con un altro atteggiamento e se entriamo in campo così, loro hanno gioco facile, sono più forti e se noi non diamo l'anima, giochiamo sempre a tutto gas non ce la possiamo fare, quindi secondo me è stata quella la chiave, poi possiamo analizzare tutte le cose che vogliamo ma non c'era quella vera che già era in gara 1 e quando è senza quello diventa difficile adesso però torniamo a casa nostra, il nostro pubblico, magari oggi questa partita vi serve un po' da lezione il nostro pubblico ci darà una mano e dobbiamo ritrovare la nostra grinta È stata una partita che comunque vi ha visto lottare alla pari fino al 18-20 poi nel finale Macerata è stata più cinica? Sì, è vero, perché comunque loro hanno giocato meglio nei finali di set la partita special nel primo set era sempre in equilibrio, si è determinata negli ultimi punti così anche nel secondo set, quindi bravi loro, però noi dobbiamo farci un'analisi, un esame di coscienza e pensare alla prossima però con un altro spirito Dov'è fondamentale da migliorare in assoluto rispetto a questa gara 3? No, non lo so cosa migliorare, l'importante è entrare in campo con un'altra mentalità con quella che ci ha visto giocare contro il Piacenza in tutte le gare anche qua la prima gara oppure, c'è da un macello oppure da noi in gara 2 è quello che bisogna giocare Grazie